Buonasera a Pierferdinando Casini, leader dell'Udc collegato con noi da Montecitoro. Presidente Casini, non è che poi alla fine la crisi di questo governo che sembrava imminente va a finire con un rimpasto, addirittura con un Berlusconi bis? Questo lo bisogna chiederlo al Parlamento. Nel Parlamento siamo in una Repubblica parlamentare, se Berlusconi avrà la fiducia è chiaro che avrà il dovere di governare. Se avrà la sfiducia se ne andrà a casa andrà al Quirinale, a quel punto si aprirà una crisi, tutti metteranno sul tavolo le carte senza pretattiche, senza giochini. Per me la soluzione è un governo di responsabilità ampio perché non risolve il problema degli italiani un governo contro Berlusconi e non risolve ormai più Berlusconi i problemi degli italiani. Quindi però voi ribadite che a un Berlusconi bis non sareste disponibili? Ma noi siamo un partito di opposizione, per noi non è cambiato niente, noi stiamo qua in Parlamento facendo le nostre battaglie, adesso siamo riusciti oggi a portare a casa 100 milioni di euro per i malati di SLA con un capitolo a parte, dopo una battaglia parlamentare importante oggi pomeriggio, tutto il resto sono manfrine che non ci riguardano. Che non vi riguardano. Senta però si era parlato di una mozione di sfiducia, Udc Futuro e Libertà e API contro il governo che era stata annunciata, ci sarà ancora questa mozione oppure no? Perché non se ne parla più. Ma a parte che si può sempre votare anche la mozione che hanno presentato PD e Italia dei Valori, francamente per un partito di opposizione non è un grande imbarazzo, per il resto c'è tempo fino al 14 dicembre e lo concerteremo con le altre forze a cui lei ha fatto riferimento. E' però Fini difficile forse che voti la mozione di sfiducia del Partito Democratico, per quello si era pensata a quest'altra. Ma insomma è Fini che ha chiesto le dimissioni di Berlusconi, essendo un partito della maggioranza, io l'ho sempre chiesto ma sono un partito di opposizione, non è una grande notizia che Casini chieda le dimissioni di Berlusconi o che lo solleciti come ha fatto sei mesi fa a fare un appello alle forze responsabili del Parlamento. Naturalmente avendolo sollecitato io, Berlusconi se ne è guardato bene dal farlo, ha fatto l'opposto. Fini ha fatto mancare i suoi ministri, li ha fatti dimettere e ha chiesto le dimissioni di Berlusconi, per cui io rimango ai fatti. Lei crede che continuerà ad andare avanti su questa linea? Io credo che è un problema suo, naturalmente l'appello alla serietà che ha fatto prima e che ho sentito adesso dal vostro telegiornale, credo che questo valga per la destra, per la sinistra e per il centro. Perché pensare oggi con la situazione del Portogallo e dell'Irlanda, con l'euro sotto attacco, lo dice il Presidente dell'Unione Europea, di fare irresponsabilmente sei mesi di campagna elettorale per trovarci al punto in cui siamo oggi all'indomani delle elezioni, veramente siamo sulla luna. Grazie al leader dell'Udc per Ferdinando Casini.